Oggi si gioca ad Among Us, accoppiati proprio come... No, adesso ti dico io oggi che si fa! Oggi si palloggia! Aspetta, allora, iniziamo a fare... Allora, questa è una modalità nuova, una mod, dove praticamente si vince se la coppia rimane viva. La coppia chiaramente... Che bello, rimarremo vivi sicuramente! Ce la darà il gioco, però prima io voglio fare le mie coppie ideali. Allora, io e Anna, chiaramente... Ma io lo sai che è Anna! Sì, questa è giusta. Jay che piace, naturale. Ehi, vi all'angolino! Ok, paga e piadina, secondo me ci sta. Addirittura! Sì? No, no! Forza, forza! E invece è strecato e Alex Naus! Viva! The hotness! Io direi di iniziare, così vediamo subito che cosa succede, come funziona. Calmi, eh, mi raccomando l'impostore non faccia pasticci, che dobbiamo ragionarcelo un attimino. Poi vi dico bene bene come funziona. Qualcuno mi conferma che è stato messo in coppia, giusto per sapere? Ok, però... Io no! Io no! Buoni, 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 buoni! Allora, non dite... Perché mi sa che la coppia è una. Quindi questa coppia vince e uno è Alex, giusto? Tu Alex sei in coppia. Ah, sì, è vero! Sì, sono in coppia. Non dire, non dire, perché se tu dici con chi sei in coppia è possibile che l'impostore faccia l'infame e ti uccida l'altro, la tua coppia, hai capito? Ho capito, ma se uccide lui... L'impostore è un infame, cioè... Penso di aver visto, penso di aver visto tutto. Allora, piace. Che ha fatto? Piace, ha visto qualcosa, prego. Allora, mi pare che... Che è successo? Anche Paga era stato... Sono due impostori! Sì, sono due impostori. Sono due impostori. Che schifo gli impostori. Questa cosa è illegale. Molto illegale. Non è vero, aspettate! Non è vero, aspettate! Cosa è successo, Alex Nauz? Io so una cosa, se muore uno della coppia muore anche l'altro! Incredibile. Ah, no! Proprio come gli inseparabili. Proprio come gli inseparabili. Come gli uccelli che devono stare sempre insieme, no? Inseparabili! Quindi Paga era accoppiato con Alex. Beh, io direi, anche dopo morti, un bacio... Scambiatemi un abbraccio. Baccio della morte! Paga Nauz. Paga l'ha dato il bacio, io l'ho sentito. Si è sentito molto chiaramente distinto. Alex, ricambia, per favore. Che schifo. Ora non voglio... Mi pento di averlo chiesto. Vabbè. Piace, ha detto che ha visto qualcosa. Prego, Piace. Sì, ho visto. Allora, intanto il cadavere era dove c'è lo scudo. Ok, ok, molto bello quel posto. E poi mi pare che ho visto Piadina che veniva in navigation e poi è sceso verso Alex. Maiale. Ok, ok, ho un alibi, posso dire il mio alibi? Maiale. Maiale. Lo puoi dire, ma non prima che io faccia vedere le storie di qua. Che adesso posso farvi vedere... No, no, silenzio! Già da dentro. Guardate qua. Una pagina random e non potete guardare troppo però. Guardoni. Voglio vedere. No, no, no. Prego, Piadina. Fai vedere la cosa bella. Fai vedere la cosa bella. È vero, la pagina di sticker c'è. Bellissimo. Allora, per la prima volta, eh. Questa non si era mai vista prima. Guardate, Bellina. Si apre così. Guardate quanti. Si mette a fuoco. Guarda un po'. Là. Sono un fiume. Steggers. È bellissima. Adesso... Preordinare subito. È il tuo momento, Piadina. Prego. Storia al quartiere. Prima di te, io stavo andando verso navigation, poi ho visto una situazione che puzzava e sono tornato indietro verso storage, ma non ho visto niente. Buttiamolo fuori. Tanto è lui. Stai che la cosa è chiara. Fuori, 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 fuori. Perché non sei stato credibile, Piadina, Piadona. Cioè, veramente, sei stato poco, poco credibile. Ci ho provato, ci ho provato l'ho ucciso io, davvero. Non è vero, sei un bugiardo. Ci metto la mano su fuoco. Però se non è lui, chi è? È lui. Posso dire una cosa? Sì, Geric. Ho visto che ero insieme a Piace. Piadina non c'era. Però è vero. Però è vero. Ma era lui. Calmiamoci, qua è successo qualcosa. Geric fa schifo perché stava... Geric è l'altro, stava cercando di difendere. No, no, non sono l'impostore. Però Piadina non c'era. Non è possibile, Piace allora cosa c'era. Questa cosa non è vera. E c'era, è sceso sotto. Io ti credo, Piace, io ti credo. Secondo me è Geric che dice una bugia. No, ti giuro. Mi sa che gli manca la vista. No, no, ci vede bene. Qualcuno è falso. Esatto. Sì, chiaramente qualcuno sta falsando tantissimo. Mente sapendo di mentire. Ma che cosa cosa? Ma che te sei magnato? Ho bevuto un pochino di acqua frizzante per pranzo. E quindi adesso è naturale, è una cosa normale. Scusate perché in pubblico non è elegante. Però non è che qua siamo sempre eleganti. Stai zitto. Rozzo. Allora smettiamola, eh. Geric, come mai hai detto questa menzogna, Piace? Ma io non ho detto nessuna menzogna. Cioè è vero che Piadina non c'era. Ti ricordo che alle casalinghe non piacciono chi fanno questi... Geric? È morto. Era lui, eh? È morto. Geric? Mi hanno dato la bocca. Sì, sei stato tu. Sei stato tu. Ero di qua. Guarda, vieni, vieni. Vedi se c'è il cadavere qua. Dove? E l'ha stappata con un bacio di morte. Piace, dove eri? Dove eri? Ero qua in caffetteria, qua dove c'è la dusk sopra. Qua, qua dietro. Se c'è il cadavere qua è stato Piace, ragazzi. L'ho trovato, l'ho trovato. Era in caffetteria, zona caffetteria, Strecatto. No, era sotto... No, un riattore, ecco. Comparola tu. Ok, Piace non era da quella zona là. Quindi potrebbe... Strecatto, come mai ci sei andato proprio così dritto? Proprio preciso? Come se quasi tu sapessi. Perché sono andato da dove venivate voi? Comunque la coppia è già stata eliminata, quindi tecnicamente stiamo giocando un po' normale. Io direi di darci una mossa, così possiamo rifare la coppia e vediamo un po' chi esce come prossima coppia. È stato Piace! Piace, Piace, dai, buttiamolo fuori. No, vabbè, buttami fuori. Io vado in termina modo. Ti butto fuori, me lo faccio ripetere due volte, ma ti butterei fuori anche nella vita reale, perché miseria. Dalla casa tua stessa ti butterei fuori. Fossi tua madre, Piace, quando saresti andato via. Ok, non era lui. Non era lui. Ma ha puntato il dito, però, eh. Contro chi ha puntato il dito? No, 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 cos'è sta storia? Porco maledetto. Io lo sapevo che eri te, eh. Io lo sapevo perché... Ma io so chi sei tu. Ma cosa stai... Che schifo che fai. Tu venivi da qui. Che non è... Cosa ne sai tu che non ci siamo visti? Io ero compiace. Ma ti ho visto quando c'era... È morto. Sei un infame. E venivi da qui? Sei che schif... Vabbè, uccidi Anna per prima. Guarda come... Con quale infamia. È proprio... È lui. Perché... Ma quanto sono stato ingenuo. Ma non uccidere me e io ti perdono. Quanto sono stato... Cosa? Io ti devo perdonare a te che sei stato così rantegoso. Che schifo. Tu sei vile. Io? Anna, andiamo a premere. Ti ho detto che sei vile. Andiamo a premere, Anna. Andiamo a premere. Sto andando a premere. Sto andando. Andiamo a premere perché... Perché fa schifo, capito? Fan, parto un fan. Come è possibile? Sì, non ho fatto niente. Tu hai ucciso... No, non hai ucciso nessuno. Io non ho fatto nulla. E io poi ti ho ucciso perché... Scusa, piadina. Hai ragione. Oh, nuova coppia? Anna, scusa se ti ho uccisa così, eh. Però... No, va bene, va bene. Però io voglio capire come funzionano le coppie. Per questo ho accettato. Allora, se io non esco adesso, rifacciamo più volte. Cioè, tipo... Vabbè, ora ancora siamo al secondo round che giochiamo. Però, se tipo al prossimo round io non sono ancora la coppietta romantica, mi prendo il diritto di saltare qualche round. Va bene, non lo possiamo saltare. Voglio sapere... Allora, posso fare... Voglio sapere uno dei due membri della coppia. Solo uno, però, eh. Ma no, però... Ok, sono io. Ma così li uccidono. Eh, piace, non dovevi dirlo mai. Perché la coppia... E non ha detto uno solo uno della coppia. Eh, ma basta che ti uccidono a te, muore anche l'altro. Oh, no. No, mi rifugio, mi nascondo, addio. Ti conviene nasconderti, piace, ma di brutto. Perché rischi un casino. Eh, eh, eh. Alex? Che è successo? Era la voce di Alex, no. L'ho trovato io, ragazzi. Ma Alex lo ha. Eh, eh, so tutto, so tutto. Anche io so tutto. È palese, è palese. Jeric, prego, parla prima tu, però. Ti concedo. Ti faccio una colonna sonora. Sì, misterioso. Pagatimigi ha detto, Alex è appena morto. È un po' strano e è venuto da quella parte. Molto sospetto. Io almeno ci ho capito davvero niente. È incredibile questa cosa che è successo. Ma a me è stata proprio da brividi. Allora, io ho un dito da puntare. E lo voglio puntare contro... Stremato. Oh. È paga. No, è stremato. E io l'ho detto ma non mi avete sentito. Ma è sicuro? È stremato, sì. Sì, 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 sì. Sono sicuro. Perché? Perché? Sono sicuro. Perché l'ho visto. Fidatevi di me. Sono al cento... Te camminavo per caso? L'ho visto che camminava... Proprio... Sospettissimo. E poi andava avanti e indietro, capito? Proprio era sospettissimo. Ma io ho detto di neve. Dove ne è cadavano? Ma io ho detto di neve. Scusate, siamo l'occhiato dei limoni! Oh! Limoni! Paga! Adesso devi parlare! Non fermi tutti! Quello che avete fatto è inammissi. Paga! Immobile. Non è la questione di muoversi. È la questione di dire cagate mentre c'è già il mercato dei limoni! Scusati! Mi scuso veramente. Con tutti proprio. Ti metterei, porca miseria, un unicorno, porca miseria... Nel sedere. No, no, no! Sai che male! Dai, fermarti! Piavina, c'eri anche tu nel mercato dei limoni, eh! Infatti chiedo scusa a tutta l'audience, non succederà mai più. Scusa, scusa, scutatissimo. Anna? Devo chiedere anch'io scusa a tutta l'audience, chiedo perdonomi in mente. Mi sembra di sentire anche un idiota Geric. No, 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 giuro, chiedo scusa ma non c'ero io in quel mercato. Allora c'era sicuramente piace. Io ho parlato dopo, non mi date la colpa a me. Sempre nel mercato eri! Sempre nel mercato. Vabbè, mi dispiace lo stesso anche se non sono me e non ho fatto niente. Ah! Beh, bravissimo. Uccidetelo! Credo che non sia... Prego! Credo che non sia questo il modo di chiedere scusa alle persone. Però è classico delle persone che fanno schifo dire scusa ma non ho fatto niente, eh. Complimenti piace, veramente. Una persona orribile. Che cosa è successo? Ma è successo una strage? Mayday, mayday! Cos'è? No, questa cosa è... Hanno steccato... Non ho capito. Colonna sonora, per favore. Hanno steccato piante. E Anna era l'altra parte della coppia. Sì? Sì, che schifo Anna, che schifo! Anna, che schifo! Cioè Anna, potevo immaginare... Con Piadin, Geric, perché è anziano. Magari il fascino dell'uomo è anziano. Dove? Però vabbè. E paga che magari la terra piatta può essere affascinante, ma... Il ranuncolo, il ranuncolo. Piace il ranuncolo. L'ognomo, Goblin, che scava nelle miniere di Elisir. Cioè, sinceramente, mi sento ributtantemente offeso. Comunque. Qualcuno ha un dito da puntare su qualcuno? Io ce l'ho. E Geric, perché l'ha fatto per gelosia. Geric, tu invece cosa volevi dire? È paga, perché quando è morto Alex, lui veniva dalla parte del cadavere. Io penso pure che abbia ragione Geric, quindi voto anche io paga. Oh, sì? Sì, sbagli di grossa. Io non ho potuto dire niente perché ho trovato il cadavere. Il quale paga, oggi, ha deciso di borbottarsela allegramente. La smettiamo, paga? Cosa dici? La smetto subito, proprio. Sì, sì, secondo me è una buona idea, perché la terra piatta ti buttò fuori dal bordo. Comunque non era lui, Geric. Questo punta un dito bello deciso. No, no, giuro, non sono io. Allora, qua, qualcuno di noi è sicuramente. Scusa, Geric, perché? Allora, perché hai mentito su paga. Tu l'hai accusato e non era vero. Eh, ma perché lui veniva dalla parte del cadavere quando è morto Alex. Allora, io sono abbastanza convinto che Piadina questa volta non possa essere. Sì, sono anch'io convinto di questa cosa. E io neanche, perché chiaramente sono uscito poco fa. E sappiamo tutti che questo gioco non mi vuole abbastanza bene da farmi uscire due volte. Ma non sono io. Ciò lascio un solo colpevole Piadina. Non ti asicinare. Non ti asicinare. Aspetta, fermo, però. E se fossi tu? E se fossi tu? No, ma scusa, io ho riportato i cadaveri. Allora, se non mi raccomando male. E se fossi tu? Fè, 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 fè. Fè, allora. Non puoi essere tu perché tu hai riportato l'ultimo. Secondo me, Geric. Ma teniamo le distanze di un metro di sicurezza, per favore. Sta a fare la finta. Ben per tu fanne! Di nuovo! Vedi che io non ti tradisco! Io ero una doppia coppia! Anna era anche l'impostore comunque, eh. Infatti sono stato molto stupito quando è venuto fuori che poi non era colpa sua. Tu hai ucciso tua moglie? No, io ho ucciso Piace. In realtà ha ucciso Bullboy? Sì, con gusto anche. Che quindi ha ucciso me. E quindi poi è morta anche. Ma se c'è del ultimo storico, questa cosa c'è, la devi immemoriare. Sì, infatti. Amici, fermi tutti. Posso fare una richiesta. Non morire per primo. Grazie, Lion. Soprattutto se sei te. Per favore. Ok, tre volte di fila, neanche, porca miseria, le mie migliori preghiere. Posso chiedere chi è la coppia? Perché io continuo a non uscire coppia e mi scoccio un po' questa cosa. Sì, ma io! Che amore! Quanto amore! Ho capito, ma così vogliono. È morto stregatto. Evviva! No, era Jeric quello. No, non sono io. È morto, sì. Era morto stregatto. No, questa cosa qua è sospettissima, Jeric. No, giuro, non sono io. No, 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 io ho l'alibi per Jeric. Sì, sentiamolo. Stavamo facendo la tasca insieme in caffetteria. Oh, sì, grazie, Anna. Va bene, va bene. Signore... Signore Bulboboy. Ecco qua, mi aspettavo... Dov'era il cadavere? In admin. Ok, mi ha visto Piadina in electrical. Ma chi ti ha mai visto? Non è vero! Piace! Nel vuoto si era a nessuno! Fuori piace! Gustati questo viaggio tra gli asteroidi. Sei un cazzaro! Sei un cazzaro! Ho detto la verità io. Ha indicato però nel morendo, ha puntato il dito contro Hot Piadina. Chiaramente più che altro perassio. Io stavo a braccetto con la mia coppia, Alex Now. È vero, è vero, io neanche l'ho visto, piace. Ok, però non era piace. Quindi questa cosa qui ci fa pensare male verso Piadina. Però potrebbe anche essere che piace è stupido. Perché piace è stupido, quindi magari... Non dimenticate che la coppia può anche essere assassino, eh! Sì, 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 sì. Eh! Cioè, la coppia potrebbero essere entrambi e in quel caso sarebbe spaziale. No, no, è impossibile, perché noi non abbiamo ammazzato questo caso, siamo stati sempre insieme. Io non ho capito quello che hai detto, forse sei cirillico, aramaico. Hai detto che siamo sempre stati insieme. Laio, non tu hai visto quello che ho visto io? No, che cosa hai visto? Hai visto Piadina e Alex cosa hanno fatto? No, cosa hanno fatto? Non hanno fatto nulla qui, non hanno fatto nessuna task e ci sono stati mezz'ora. È vero, è vero, è vero! No, no, io stavo seguendo il mio compare Alex. Posso premere? Non lo so, Jake. Ma non è Piadina, buttate fuori Piadina! No, no, ma scusa, ma dovresti essere il mio ragazzo in qualche modo. E Alex! Era paga, era paga, davanti a me l'ha fatto! Davanti a me, davanti a me! Ma veramente? Hai spezzato un amore perché nessuno ti ama. Cioè, che schifo, Paga. Perché Alex ha rubato Piadina, capito? Eh sì, perché il turno prima ero con Alex, quindi ora è Piadina. Buttiamolo fuori, che schifo, Paga. Che vergogna! Alla luce del sole, senza vergogna, senza pudore, hai ucciso! Hai ucciso! Me l'hai ammazzato davanti! Incredibile! Non era lui! No, non ci posso credere. Ma raga, chi era? Io non sono. Anna? Non sono neanche io. No, 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 no. Geric non è perché Geric ha detto cose giuste e vere. No, non ci... Quindi è Anna? Anna sei te? Senti, ho capito. Vieni qua, dai. Cosa vuoi? Non sono... Prendimi a pugni, sparami in faccia. Non sono, non hai capito. Per tu fannami con la lingua. No, no, Geric ci sta ingannando, Geric, scappiamo. Io ho molta paura di tutti e due. È lei, Geric. È lei, è lei. È inutile che scappi, vieni qua. Geric, è lei, è lei. È un trick, è un trick, è un trick. Geric, ti tocca. Geric, ti stecca. Anna, ti prego. Ma se non potevo steccarlo. ci stai inseguendo perché ci stai inseguendo perché voglio farmi ammazzare tanto ormai dai per favore per tu fanno è tutto a video non lo so è vaga nel gioco era di nuovo piadina ma tu la devi smettere mi hai ucciso di nuovo le lamentele le teniamo per dopo che finiamo di registrare vediamo se esco coppia sono coppia ma non dico con chi posso dire una cosa la mia coppia mi fa cagare sicuramente piace vi dico di non uccidermi piace secondo me a me non posso morire piace mi piace fai schifo stiamo vicini stiamo insieme mi hai rubato la ship vieni con me se muori poi muoio andiamo via paga non me lo tocca vattene via non te lo tocca proprio è tutto tuo che schifo oh non me lo tocca facciamo qualche task ma dove ne hai comprato piatto bisogna fare così c'è la modalità quando esci è morta quando tu esci nella modalità c'è scritto proprio lover quindi praticamente Alex complimenti per i tempisti scusami non stavo parlando io non stavo parlando hai ragione ti lascio finire buttiamo fuori Alex immediatamente perché una cosa del genere è imperdonabile imperdonabile ma vabbè chi è stato? vabbè dai dimmi chi è stato evviva mi sono stregato che stava scappando che schifo che schifo stre cioè alla fin fine sei uscito incredibile cioè dopo averti buttato mille volte fuori in modo innocente sei uscito tu non mi hai buttato fuori mi hai ucciso prima due volte è uguale comunque sei sempre morto quello è quello che conta no è importante tra i due cioè mi fate cagare entrambi Alex perché mi ha interrotto e strecato perché forse è l'impostore quindi buttiamo tutti e due amore scegli tu che vogliamo buttare fuori stregato 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 buttiamo fuori stregato vai 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 comunque è così perché quando inizi la partita c'è scritto lover quindi tu la tua coppia lo devi chiamare amore cioè non c'è altro ho capito ma io prima non è che a piace lo chiamava amore eh lo so fa anche raccapriccio cioè io ti giuro mi sta venendo un conato di voluto però vale che l'ho riuscito con jerek eh se no lui era contento stregato era colpevole davvero stregato che schifo farti buttare fuori da Alex cioè te l'avevo detto pietoso pietoso veramente pietoso ho l'impostore chiunque sia se mi ammazza Alex sono contento perché lo volevo buttare fuori ero proprio lì lì non è giusto hai ti aiutato ma guarda sempre insieme sono proprio una coppia affiatata cos'è che bisogna? a lui che sta facendo qua? a lui che sta facendo qua? e infatti guarda guarda i cavetti metto il giallo metto il rosso e metto il blu che schifo te voglio la staccare mi sta venendo a vomitare tesoro attento a jerek che potrebbe essere geloso va bene grazie vieni qui no no puoi tenerlo però anche tu mi devi dare un appellativo affettuoso chiamami cucciolone per esempio no non ci riesco dai su forza aspetta voglio parlare con jerek no non devi parlare con jerek devi parlare con me chiami cucciolone e andiamo di qua dai è più forte di me no no anche per me era molto forte ci voglio ammazzare aiuto vieni vieni tesorino tesoruccio a fine video vomiti si no ti giuro c'ho il magone è morto jerek tesoruccio sei l'impostore tesoruccio fai cagare mi sembra e com'è che volevi parlare con jerek ora ora capisco beh approfitterei del momento se non vi dispiace per dire che alle 19 stasera e tutte le sere ci trovate sul sito viola in live e quindi mi raccomando venite basta che cercate cerchiamo luccio su google lion vgf live per trovare il sito oppure le trovate nel primo commento in descrizione del video lion vgf live tutto attaccato era un buon momento mi era venuto in me io non ti posso buttare fuori perché sennò mi sa che muoio pure io io lo butto fuori ah pianino gli sei rotto gli è entrato un rato morto nella connessione che bello vabbè scusa è colpa dell'amore vabbè io voto comunque ho votato alex però non è servito non è servito alex ci ho provato a buttarti fuori però dai ma mi dispiace ormai l'hai scamato tu è un complice potevo non dire niente però mi sembrava eccessivo quindi oh mi sono strozzato da solo ho visto hai visto è una coppia e ti ammazzano il compagno tu ti ammazzi da solo è stato traumatico è stato veramente traumatico vabbè allora questa modalità lover è stata bellissima forse è la più bella che abbiamo giocato va rifatta naturalmente va rifatta quindi se la volete vedere di nuovo mi mettete nei commenti un cuoricino per simboleggia no il cuoricino quello fatto alla cine c'è il doppio cuoricino il doppio cuoricino così un doppio cuoricino quel cuoricino che vi parà a voi insomma se scuoricinate facciamo un altro video sulla modalità copia che piadina non vede l'ora di accoppiarsi con Paga si tieni quella Paga wow che schifo Paga e tutto il video è borbotta comunque è che non parla quando chiamato in causa anche ok ora parlo ma non borbotto che schifo Paga e non ho avuto il video complimenti il video è finito bravo